Smentita secca, smentita doppia, smentita su tutta la linea, smentita da parte del gruppo Louis Vuitton e smentita da parte del gruppo Elliot. Come voleva si dimostrare, qui non si tratta come qualcuno di voi adesso si passa di gomito alla parola d'ordine, tutte le cose nel calcio funzionano a ondate, un giorno sei bello biondo con gli occhi azzurri, un giorno lecchi, un giorno chissà cosa, insomma. Qui non si tratta di leccare, qui si tratta di pensare e di capire. Pensare a quale sia il ruolo del gruppo Elliot all'interno del Milan e capire cosa il gruppo Elliot stia facendo. Qualche tifoso sui social ha scritto rispetto alla smentita al commento, peccato, peccato cosa? Se arriva un'altra proprietà può spendere 100 milioni per il giocatore di grido? Si è capito quello che sta succedendo con la UEFA, quello che è successo la scorsa estate con la UEFA e quello che è successo negli ultimi sei anni con la UEFA, lo si è capito? Si è capito che non si può passare dalla sera alla mattina nel calcio da essere una squadra che deve regolare i propri conti con i regolamenti a squadra che spende 300-400 milioni di euro a campagna acquisti? Lo si è capito questo? Si è capito che comunque Elliot quest'estate ha fatto uno sforzo per essere diplomatico con la UEFA per garantire comunque una campagna acquisti alla squadra, si è capito che il Milan, come abbiamo scoperto in questi giorni da testimonianze nostre, visive, oculari, che nell'estate 2018 il Milan ai primi di luglio non era in grado di iscriversi al campionato di Serie A e che il salvataggio di Elliot nei confronti del Milan è stato totale e importante per quanto riguarda lo stesso titolo sportivo non si può da un lato criticare Giampaolo perché non mette i nuovi acquisti e dall'altro criticare chi i nuovi acquisti li ha portati. Se i nuovi acquisti sono di prospettiva e possono garantire un domani un patrimonio al Milan Elliot ha iniziato a fare il suo lavoro. Il lavoro di Elliot non sarà eterno ma certamente non c'è nessuna trattativa per il Milan perché il Milan non è in vendita. L'importanza che sta dando Elliot al progetto del nuovo stadio è la stessa importanza che sta dando Elliot al progetto dei giovani prospetti da far diventare patrimonio per il club. Quando nel lungo periodo Elliot cederà il Milan, il Milan avrà asset importanti perché avrà una proprietà importante anche se una proprietà significativa sullo stadio e avrà una rosa con giocatori che non sono costi ma sono risorse che non sono pesi sul bilancio ma che sono risorse per il bilancio. Questo è quello che sta accadendo. Poi potete dirci che le chiamo, che facciamo. Noi cerchiamo di rappresentare la situazione per quella che è, per quella che ci appara al momento per quello che ci sembra giusto dire con funzione di responsabilità per tutelare il Milan. Oggi non è il caso di dividersi in discussioni sterili. Oggi bisogna andare in campo contro la Fiorentina e far bene e continuare a dar corso al progetto sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista economico, strategico e progettuale. Critiche per tutti, critiche per me naturalmente ma ci sono da vent'anni a questa parte e naturalmente da vent'anni a questa parte siamo in grado di affrontarle, di commentarle e di ribattere sempre, colpo su colpo, senza piegarsi di fronte a nessuna imbettiva e di fronte a nessuna volgarità. Critiche per tutti, critiche per i dirigenti, per tutta l'estate si è detto e si è scritto che Zvoni Mirboban era convinto di aver preso un giocatore importante con Raffaele Au. Lo stiamo vedendo, era vero. Per tutta l'estate abbiamo capito che era stata prima la scelta di Paolo Maldini quella di Marco Giampaolo, nuovo allenatore rossoneuro. Paolo Maldini sta difendendo con coerenza il lavoro di Marco Giampaolo quindi la dirigenza sportiva che era quella che voi tifosi volevate per tanti anni avete voluto uomini di calcio, bandiere del Milan, glorie del Milan al timone della società, ci sono e stanno lavorando con coerenza. Certo che i risultati non arrivano, certo che siete arrabbiati, certo che vi sfogate certo che l'invettiva, certo che la parolaccia, certo che qui, certo che là, tu lecchi, tu non lecchi. Sono cose che sono legate ai risultati ed è i risultati ed è a partire dai risultati che bisogna cambiare il corso delle cose per cui rimanere concentrati su Milan-Fiorentina, ci sarà un gran bel pubblico anche stasera a San Siro grazie naturalmente a tutti, ciascuno continua a dire quello che pensa noi ci difendiamo per quel che ci tocca però l'importante è il Milan, come dice sempre Marco Giampaolo in conferenza stampa l'idea principale è il Milan e sul Milan le cose stanno procedendo c'è una proprietà a pieno titolo, totalmente insiedata nel Milan e che sta dando vita ad un progetto, un progetto che ha appena iniziato certo ci sono stati gli intoppi di queste tre sconfitte che hanno mortificato e deluso e amareggiato i tifosi ma il progetto a livello più ampio, a livello globale, a livello societario è assolutamente in corso ed assolutamente in funzione grazie a tutti